L'anticiclone della Zorre tende ad allungarsi verso l'Europa centrale, proteggendo la nostra penisola dalle perturbazioni atlantiche, costrette a transitare a latitudini più settentrionali. In Toscana, mercoledì 11 ottobre, sereno, poco nuvoloso, salvo nubi bassi o nebbia nelle prime ore del mattino, in particolare sul litorale centrale e sul Valdarno inferiore, venti deboli in prevalenza occidentali, mari calmi o poco mossi, temperature quasi stazionarie nella media o leggermente superiori. Sul territorio provinciale cielo è generalmente sereno, poco nuvoloso, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 11, massima 23 gradi, a Castelnuovo-Garfagnane zone montane minima 6, massima 23, a Via Regge sul litorale minima 13, massima 21 gradi, giovedì da nuvoloso a molto nuvoloso, con deboli piogge alternate a schiarite in mattinata.